Alberto Filiciotto, io partirei dalla fine, perché anche giusto così Alberto dal tuo primo gol stagionale, punizione poi diretta all'incrocio, me la spieghi un po', perché ha regalato un punto importante al Caldiero. Sì, una palla sporca dove abbiamo comunque preso un fallo lì dal limite, io sono partito subito per prendermi la palla. Ero contento che fosse arrivata quella punizione perché l'aspettavo da tanto, poi volevo tanto il primo gol, poi avevo anche i bambini che erano venuti a vedere. Mi sono concentrato e poi è andata bene, comunque noi il sabato ci mettiamo lì e proviamo ed è il frutto di un lavoro della settimana. Ti chiedo Alberto se c'è anche un po' di rammarico, magari per non averla portata a casa, perché soprattutto per come eravate partiti nel primo tempo sembravate anche in grado di puntare alla posta in palio piena oggi. Sì, sicuramente. Io sono contento per il gol, ma mi dispiace comunque perché comunque potevamo portare benissimo tre punti a casa. Secondo me questa partita qui era il nostro calibro, nel senso che nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione di palleggio, di occasioni create, di scambi ravvicinati. Siamo andati comunque diverse volte al tiro con delle situazioni che proviamo durante la settimana. Peccato, sì. Peccato perché poteva darci una spinta buona. Prendiamoci questo punto che comunque smuove la classifica e cerchiamo di star sereni, è la prima cosa che dobbiamo fare, di lavorare, di limare quell'aspetto lì, soprattutto le pallinative, dove soffriamo. Come si fa? Ti chiedo a migliorare quell'aspetto. Poi forse questo è l'unico neo della gara di oggi. È una bella domanda, nel senso che non lo so. Secondo me è lavorarci e essere più convinti e più cattivi. Poi sicuramente il mister con lo staff rivedrà la partita, rivedrà dove sicuramente possiamo migliorare, lo sapranno meglio di me. Troveranno le risposte sicuramente meglio di me. Noi possiamo solo metterci a disposizione e fare quello che ci dicono loro. Dobbiamo essere più convinti, nel senso che ci manca quella piccola convinzione in più. Secondo me queste partite qua prima o poi le portiamo a casa. La dedica per il gol Alberto? Ovviamente la mia famiglia, mia mamma, i miei fratelli, mia moglie che quest'anno mi sono sposato. La dedica va a loro, mia moglie, i miei due figli che sono venuti oggi con il mio suocero e la moglie, Ginevra e Geremia. Io ogni partita l'anno scorso ho avuto due lutti importanti, mia nonna e mio papà. Scendo in campo per loro. Quindi la dedica è un po' ampia. Quindi è questa. La mia dedica è alla mia famiglia perché sono la mia forza. Io scendo in campo, lavoro quotidianamente per loro, per garantirgli comunque un presente e un futuro. tranquillo e che è quello il mio unico obiettivo e quello che mi fa star bene.